Dal 2 al 6 ottobre torna la Festa del Racconto, 19esima edizione, a cura di Leonardo Giluccone. Oltre 50 agli incontri tra Carpi, Campogagliano, Novi di Modena e Sogliera. Sindaco Righi, Carpi sempre più attiva, appena terminata il Festival Filosofia siamo già ancora la cultura al centro con la Festa del Racconto. Com'è l'approccio di quest'anno? Devo dire che questa 19esima edizione sarà estremamente ricca di contenuti e come tutti gli anni questa è una festa che in particolare per l'Unione Terre d'Argine è molto significativa perché usciamo da Feste della Filosofia che vede Carpi, Modena e Sassuolo insieme e oggi invece ci troviamo con una festa che è molto intima per l'Unione Terre d'Argine. Quindi ovviamente il ringraziamento va a tutti gli istituti culturali di questi quattro comuni alla Fondazione Campore, alla Fondazione Cassa di Risparmio che cofinanzia significativamente l'iniziativa, alla Regione con il suo patrocino e contributo e soprattutto un ringraziamento al direttore di quest'anno che ha fatto un lavoro veramente straordinario quindi è la sua prima volta per questo tipo di festival e ha portato veramente, devo dire, grande innovazione e tantissime belle nuove occasioni per trasformare appunto il nostro territorio nella riscoperta dei luoghi che a volte non vengono utilizzati proprio per lasciare spazio all'immaginazione, ai racconti in tutte le sue forme. La novità secondo me più importante è tornare alla forma racconto nella sua essenza quindi ci siamo concentrati su quello che è stato questa festa del racconto nella sua prima edizione un premio letterario dedicato alla forma racconto, dedicato appunto all'Oria e quindi abbiamo individuato cinque forme di concorso che coinvolgessero tutte le fasce d'età e direi anche tutte le forme si va dallo Stam Poetry al racconto breve propriamente detto è una forma di reportage, di racconto e addirittura di graphic novel per i ragazzi gli ospiti ne abbiamo di italiani e di internazionali ne abbiamo sia in una forma online attraverso un pre-festival del racconto attraverso dei collegamenti Facebook che sono partiti molti mesi fa e proseguono direi fino alla festa del racconto e poi abbiamo un'anteprima con l'autore israeliano Nevo che sarà anche presente qui alla conferenza stampa Escol Nevo, uno degli scrittori israeliani più letti e amati che è stato ospite presso l'auditorium San Rocco dove ha presentato il suo libro di racconti, Legami, edito da Feltrinelli Gramma Tra le novità di questa edizione l'omaggio a Franz Kafka di cui ricorre nel 2024 il centesimo anniversario della scomparsa La festa del racconto prevede nel suo programma numerosi appuntamenti dedicati al maestro della forma breve una selezione di letture dei racconti da il medico di campagna e dai diari scelti da Luca Crescenzi per la voce di Tommaso Ragno Lo spettacolo di Mauro Kovacic tratto dal suo recentissimo Kafka e microletture nelle librerie La scrittura letteraria spesso si traduce in altri mezzi questo è un altro modo per raccontare L'ultima cosa che voglio dire è l'importanza che diamo ai nuovi in media La Forma Podcast, che è probabilmente la nuova edizione della radio è qui celebrata attraverso un percorso di nove incontri che abbiamo ricordato in un recente post Instagram perché una cosa che ci piace fare in questa festa del racconto non singoli eventi non legati tra loro ma percorsi di eventi tanto che li raccontiamo ma inviteremo durante la festa in un presidio che si chiama La Capanna del Lettore librai, bibliotecari ma gli stessi lettori forti a raccontare come attraverseranno il programma della festa quindi ognuno può costruirsi, ed è naturale visto che gli eventi sono gratuiti una propria festa del racconto declinata per esempio nei propri gusti speriamo che ci sia una componente popolare una componente letteraria ma soprattutto una componente attiva attraverso i book club per esempio Lei ha parlato di prima volta del direttore ma oggettivamente questo è stato un battesimo anche per lei a livello di approccio culturale come insomma neosindaco come ha visto Carpi in questi giorni? Ma diciamo che ho visto la Carpi che vorrei vedere un po' tutti i giorni nel senso una Carpi viva, una Carpi attiva ricca di persone, non soltanto di Carpi ma anche da fuori che passano per le nostre piazze per i nostri edifici, per i nostri luoghi con lo spirito della scoperta della scoperta non soltanto della città ma una città che si sa aprire appunto al mondo raccontando storie e facendo cultura quindi sì, è stato molto emozionante partire come sindaco in un periodo così ricco di iniziative grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti